Porte aperte all'Apolo di Calvizzano. Sabato 15 febbraio, nell'istituto diretto dalla preside Armida Scarpa, si è tenuto l'open day. Genitori e alunni che dovranno scegliere la scuola per il prossimo anno scolastico hanno visitato aule e laboratori dove docenti e studenti hanno mostrato le loro attività quotidiane. Il dirigente scolastico ha tenuto un discorso introduttivo nel quale ha spiegato le potenzialità dell'istituto e illustrato le attività extrascolastiche come il comenius, vele e vento e il corso di telegiornalismo. Gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale hanno accolto i genitori in visita eseguendo brani al flauto traverso, alle percussioni, alla chitarra e al pianoforte. Infine, alcuni degli abiti creati in occasione dell'Eco Fashion Shoe, la sfilata di vestiti realizzati con materiali riciclati, sono stati indossati da lune dell'istituto.